Elezioni amministrative del 26 maggio 2019. Le liste sono pronte già da un po' di tempo e anche i candidati hanno cominciato i comizi elettorali. In campagna i comuni interessati al voto sono 177, dei quali 156 contano meno di 15.000 abitanti. I restanti 21 hanno una popolazione superiore ai 15.000 abitanti e quindi nel caso in cui nessun candidato superi il 50% delle preferenze al primo turno è previsto un ballottaggio tra i due candidati che otterranno il maggior numero di voti. Per quanto riguarda la provincia di Salerno i comuni interessati dalle elezioni comunali sono 49. Albanella, Scea, Trani, Auletta, Baronissi, Bellizzi, Bello Sguardo, Caggiano, Campora, Capaccio Pestum, Casalbuono, Casaletto Spartano, Casella in Pittari, Castelnuovo Cilento, Castelnuovo di Conza, Castiglione del Genovesi, Cicerale, Cuccaro Vetere, Felitto, Furore, Futani, Gioi, Laureana Cilento, Minori, Montano Antilia, Monte Corvino Pugliano, Morigerati, Nocera Superiore, Oliveto Citra, Omignano, Ottati, Pagani, Ricigliano, Rofrano, Sala Consilina, Salento, Salvitelle, San Cipriano, Picentino, San Mauro, Cilento, San Pietro Altanagro, San Rufo, Sarno, Scafati, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tramonti, Valle dell'Angelo e Vietri sul mare.